Ciao Fatih, questo è un giorno molto speciale, perché è il tuo anniversario, quindi vi auguro di un giorno molto felice, ben sorrondito dalla tua famiglia e dai miei amici. Buon giorno, continuate a dare il nostro piacere sui fattori di fattori di fattori, e spero di poter vincere in un'altra parte, magari in un'altra parte, non lo so. Tutti il miglioramento, grazie, ciao! Tanti auguri a Titerim, buon compleanno a un grande mister, ma soprattutto a un grande uomo. Ciao mister, ti voglio bene, un abbraccio da Paolo, ciao! Grande maestro, un auguroni mister, di due 67 anni, di dirti un abbraccio grande, ti raccomando, comporti sempre da imperatore, perché sei un grande, un grande uomo e un grande mister, di nuovo auguroni e a presto, con affetto, ciao mister! Ciao mister, spero che lei sia bene, lei e sua famiglia, spero tutto bene con voi. Grandi papà, tanti auguri, ti voglio bene dall'anima, tu lo sai. Grande mister, volevo fare gli auguri di buon compleanno, spero di vederti presto. Vì chi è dono, spero di vederti più. Buongiorno mister, tanti auguri di buon compleanno. Ciao Titerim, auguri per i tuoi 67 anni. Lo sai che hai un anno più di me, però nonostante questo la nostra amicizia rimarrà sempre invariata e piacevole. Per il 2001 è stato molto positivo per tutte e due e ce lo ricordiamo tanto con grande affetto. Ciao, ciao imperatore, a presto. Ciao Fati, sono ormai vent'anni che ci conosciamo e sempre sei nel mio cuore e nei miei pensieri, quindi ti faccio tanti, tanti, tanti auguri e ti voglio bene. Mister, voglio fare tanti auguri per te, buon compleanno, buongiorno con tua famiglia, con i tuoi amici. Oh mister, nasce sempre? Happy birthday boss, happy birthday mister, fatti Titerim. The boss, Galatasaray. Grande mister, grande Titerim, grande imperatore. Volevo farti auguri di buon compleanno, volevo dire che se c'è un allenatore in questa terra, in questo mondo che io posso dire che amo, sei te. Sei molto di più di un allenatore per me, sei un amico, sei un padre, sei un fratello più grande. Quindi auguri, buon compleanno e ti amo. Ciao, ciao mister. Ciao mister, ti auguro di tutto il core un buon compleanno. Fatih Hoca, happy birthday. I hope to see you soon and we can celebrate together. I really miss you man, take care, cheers. I'mperator, 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 Fati, Titerim. Mutru ilar, babah, ikidudun. Assalamu alaikum, rahmatullahu jam. Nazasun abi, it's me, Nordin Amrabad. Ciao, I'mperator, I'm here to say happy birthday. God bless you. I wish all the best for you, for your family. Enjoy your day. You wish all the best in your life. You worked a lot to be what you are, as a coach, as a man, as a father, as everything in your life. Thank you so much to let me work with you, to became champion with you, with my heart. I wish all the best for you, for your family. Mister, happy birthday. Vou falar em português. Espero que você tenha um dia maravilhoso. Muitas felicidades pra você. Que Deus possa te abençoar, você e sua família. Aguri, mister. Bom compleanno. Espero que estai bene. Boa, moa. Que vore o veda. Um abraço forte, mister. Ciao. Happy birthday, mister. I miss you a lot. I hope that you're going to get a lovely birthday, and you're going to get celebrated in a good way also. Hope to see you soon. Take care. A lot of love from Sweden. Fatih Hoca, nasılsın Kazım burada? Doğum gün kutlu olsun. Çok seviyorum seni. Hadi bye bye. Happy birthday, my father. All of the best. I love you so much. Thank you for everything. Baba, I love you. Hello coach. I hope everything's all right. I wish you a happy birthday. May Allah bless you. Goodbye. Mister, fenomeno. Tanti augury. Tanti, tanti augury. Sei un grande come sempre. Ti auguro tutto il bene per tutta la tua vita. Un abraço fenomeno. Hocam, evlatlarınızla, torunlarınızla, Galatasaray'la daha başarılı, daha mutlu, daha sağlıklı seneler diliyorum. Sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Altyazı M.K. Çok güzel ya. Oh, nerelere gittim ya? O gün pasta tarafından çok hoşlanmıyorum ama bu tarafı insanı çok başka evlere götürüyor. Çok da büyük bir hatıra. Kimin anlayı geçtikse çok teşekkür ederim. Altyazı M.K.